Questo ha lo stesso volo di caratteristiche del precedente M, quindi è un ultrabook a tutti gli effetti, sono 11 ultrabook che riescono ad avere una scheda grafica discreta, in questo caso la scheda grafica è un Nvidia 640M in questa versione, quindi noi lo definiamo come gli ultrabook più potenti in più abbiamo aggiunto il touch, quindi display e touch, è una combinazione del mondo touch con la performance e la trasportabilità. Questa è la versione V con la touch, non è un ultrabook, è il semplice fatto che è 2 mm più alto rispetto al M, quindi esce di circa 1 mm dalle specifiche interi, però il concetto rimane quello, leggermente più pesante e l'abbiamo aggiunto a un prodotto che è circa il 30% più sottile rispetto all'equivalente con CPU a standard voltage, Polsce, ci sono destacli a un prodotto e l'ambito all'equivalente con la sequ这i Grazie.